Giovanni, un Vakif che sembra in crescita, tu come l'hai visto? Non posso fare a meno di chiederti di Paolo Egonu come sta andando, come è andata questa prima parte di stagione e come vi trovate? Mi sto divertendo molto con lei, mi sto divertendo molto perché ha tantissima voglia di imparare, ha tantissima voglia di ascoltare ed è un fenomeno e quindi è sempre bello lavorare con i fenomeni. Grazie.